Questa Presidenza della Misericordia che è candidata alla Presidenza nazionale va sempre nell'impegno di servizio verso la comunità. Vorrei capire come eventualmente affronta questo impegno e che segno vorrà lasciare nella sua Arezzo e nella sua Toscana. Le Misericordie come ho detto prima sono parte della mia vita perché ho iniziato il servizio alla Misericordia di Arezzo che avevo poco più di 12 anni e sono rimasto sempre molto legato a questa associazione come altre che sono comunque anche queste formative, pedagogiche, educative perché comunque trasmettono dei valori molto importanti. Il servizio alla persona, credo che sia l'aspetto più importante sul quale non possiamo derogare in questo momento, prima, oggi e domani. Io non avevo certo intenzione di prendermi altri impegni dopo tanti anni in prima linea ma mi è stato chiesto questo servizio e ne ho parlato anche con mia moglie. Ovviamente non mi sono sentito di dire di no perché, ripeto, mi pare opportuno ancora una volta, tra virgolette, sporcarsi le mani, quindi impegnarsi. E le Misericordie ho visitato in questo periodo la Sicilia e ho visitato ora la Toscana, poi andrò a incontrare altre regioni in questo periodo. E devo dire che ho trovato veramente delle eccellenze. Non è solo il servizio di ambulanza o il servizio ai defunti, ma ci sono realtà veramente di servizio alla persona. Ci sono residenze sociali di ultima generazione nel senso dell'approccio ai problemi delle persone con questo rispetto che si deve. Ci sono asili per i bambini, ci sono servizi ai disabili di altro genere, c'è la protezione civile, ci sono luoghi dove non ci sono le ambulanze neppure, ma quella Misericordia lì, in alcuni paesini della Sicilia, sono l'unico avamposto. Ovviamente ci sono altre realtà, ma in alcuni paesini ci sono solo loro e sono quelli che accompagnano gli anziani a fare la spesa piuttosto che vanno a fare altri servizi. Allora voglio dire che questa realtà così grande è così numerosa, perché io non lo sapevo, ma poi mi sono reso conto che in Italia sono oltre 800.000 soci, 100.000 volontari, oltre 806 in Italia. Allora sarà un impegno molto forte. Io credo che vada riposto al centro quello che ho detto in un manifesto che ho scritto. L'aspetto ecclesiale, perché la Misericordia comunque promana dalla Chiesa, nasce nel 1244 proprio in un momento storico particolare, come ci sono stati tanti momenti storici della nostra, della storia dell'umanità. E nascono queste Misericorde davvero come servizio, non sappia alla destra cosa fa la sinistra, nel momento in cui c'era questo confronto tra Guelfi e Ghibellini. E prosegue nella sua storia in tutti questi anni. Allora io credo che sia importante, molto importante, ecco questo aspetto ecclesiale, rilanciare il concetto di legalità, perché credo che oggi la legalità sia un vissuto, deve essere un vissuto per ognuno di noi, non si può continuare a proclamarla e poi avere comportamenti strani, no? Ibridi. E poi ci sono tutta una serie di aspetti, no? Gli aspetti legati appunto alla promozione della difesa umana, della dignità umana, al dialogo interreligioso e interculturale, all'aspetto educativo. Le Misericorde fanno un grandissimo lavoro nel settore educativo e poi soprattutto ecco la difesa dei più fragili, no? Gli anziani, come dico, anche come fondazione, prima lo dicevo, ma le Misericorde che sono in tesso, no? Il tessuto della società possono svolgere questo importante ruolo.